che si fonda molti di voi ci hanno chiamato nel corso di questi mesi intanto voi date con D'Angelo è vero, non è assolutamente così perché se D'Angelo aveva delle idee D'Angelo, chiaramente quando mi riferisco a D'Angelo mi riferisco alla lista civica da qui ancora se avesse avuto delle idee diverse da quelle che sono i capisali del nostro pensiero di bilancio della città tutto questo non sarebbe avvenuto e quindi c'è stato un confronto noi siamo venuti quasi dieci giorni fa in questa stanza con lui e con loro per confrontarci sul programma e non è che il patrimonio è nato subito è nato proprio un percorso di confronto serio e noi intendiamo portare il nostro contributo e lo vogliamo fare nella maniera più laica possibile tant'è che nell'ultimo capoverzo se avete novi di leggere questo accordo viene assolutamente viene espressamente riconosciuto che l'Agnato si è avvocato da D'Angelo in caso di emozione la piena autonomia dell'integrazione delle personalità a cui verranno assegnate le deleghe e sessorili e più in generale fondando le scelte sui termini riconosciuta competenza e provata rappresentanza di coloro i quali saranno a valutitolo chiamati a collaborare con la nuova amministrazione della città questo perché? perché fino ad oggi abbiamo visto che anche nell'ultima consigliatura ci sono stati mi pare 16-18 assessori che sono andati a me con di gente che non era in grado di poter amministrare probabilmente nemmeno il contributo di casa loro e che invece veniva chiamata è stata chiamata responsabilità enormi e il risultato sotto gli occhi di tutti e quindi noi facciamo un passo indietro e diciamo siano il merito, la competenza, le capacità la serietà delle persone finalmente a tornare a guidare questa città e quindi l'appello è ampio se altre espressioni politiche o non civiche si vorranno unire da qui alla presentazione delle viste io penso che D'Angelo per parte nostra siamo apertissimi penso che D'Angelo e la tua ancora non siamo da meno quindi ci deve essere la presa di coscienza che una storia è finita in questa città era già finita probabilmente quattro anni fa ma forse i tempi non erano maturi adesso ci sono stati quattro anni travagliatissimi che sono stati la conferma di come un partito e un partito democratico di D'Angelo ha perso una missione ma perché l'ha persa? perché la democrazia quando non è conclusa qui in fondo la democrazia si fonda sull'alternanza c'è la costruzione dell'essenza e della radice della democrazia stessa e quindi c'è la gestione solo fino a se stessa è quello che è venuto nella città e quindi c'è bisogno di una scossa di un momento di rottura di una di una saetta che entra nel nel territorio della città e che rimette le cose a posto questo non può che essere chi fino ad oggi non si è sporcato le mani ma ha avuto un percorso che la cui biografia garantisce la serietà e la competenza quindi vedete che in questa scelta c'è anche come dire un passaggio di carattere culturale un partito che oggi dai soldati ha dato il primo per l'Italia fa un passo indietro ha l'umiltà per il bene della città di dire benissimo mettiamoci al servizio della città facendo un passo indietro e cercando di farne tutti insieme un passo in avanti e su questo chiediamo la funzione dei cittadini dando la garanzia di partecipazione la nostra visione di politica qui è ancora sarà quella della partecipazione e dell'ascolto in un momento in cui assistiamo a fatti tragici perché la politica non è in grado di ascoltare il grido di dolore che viene dalle famiglie adesso io non voglio speculare non sia mai sui noti fatti delle ultime ore del nostro territorio ma così è cioè qui c'è una larga parte della popolazione che ha sinceramente terrore del futuro e secondo noi è compito della politica cercare di dare una speranza quantomeno stare vicino accompagnare questi sentimenti che noi pensavamo essere estranei alla nostra società una regione tranquilla la nostra una regione laboriosa silente risparmiatrice e che si è svegliata una mattina con il dubbio del futuro e allora quale miglior compito per un'amministrazione cercare di riscattare e di ascoltare questo grido che viene dal profondo dell'anima e delle coscienze delle persone delle famiglie dei nostri giovani ma anche degli anziani quindi un'alleanza aperta un'alleanza assolutamente che vuole abbracciare la città uno slancio nei confronti di tutta la comunità d'orica una domanda prima dice il PD è solo nel campo alternativo al PD però c'è una bella ressa quindi il PD è solo perché c'è Fabrià Tombolini D'Angelo ovviamente Forza e Pesarelli la domanda appunto è candidato sindaco dei moderati i moderati chi è chi dovrà votare io penso che D'Angelo sia la moderazione che fa la persona io penso che non puoi da casa D'Angelo e chiedere se lui viene un voto io posso dire da solo ma penso che sia la moderazione fatta a persona non puoi da casa D'Angelo dice la sua storia lo dice la sua storia lo dice il suo percorso lo dice la sua cultura lo dice il tuo modo di Ponsi il suo approccio è il problema lo dice il suo modo di comportarsi penso che i moderati stiano questa parola forse anche abusata oggi dalla politica penso che i moderati siano qua ma al di là dei moderati qui c'è la voglia di riscattare una comunità c'è la voglia di far tornare a essere una città accogliente una città nella quale essere orgogliosi di poter vivere e di poterla rappresentare in giro cosa che francamente si è perso anche questo gusto una città che non ha più una missione ma la città di commerci oggi che cos'è una città che sia al centro dell'iniziativa di Attico Ionica ma non per decreto ma per sostanza che è cosa completamente diversa che sfrutti i contenitori anche culturali che ha non della maniera parassitaria tale per la quale abbiamo dovuto portare anni abbiamo dovuto portare il libro al massimo ma in maniera virtuosa che la cultura sia la cultura di tutti che sia la cultura del nostro popolo che si confronti con le due spoglie dell'Adriatico che sia la capitale del medio Adriatico e la capitale dell'Adriatico ma in maniera sostanziale Siete aperti a tutti dunque però anche ai grillini in questo caso? Ma i grillini sono loro che sono confusi a tutti lo stanno dimostrando anche a livello nazionale i grillini fanno la loro strada hanno una visione se volete rivoluzionale della società perché anche dalle loro dichiarazioni per quanto mi riguarda per quanto riguarda il mio partito siamo distinte e distanti poi guarda caso nel Consiglio Comunale ci siamo trovati a sostenere le stesse battaglie perché con come si chiama quattrini abbiamo sostenuto le medesime battaglie i medesimi emendamenti e quindi mi sembra che come dire l'avversario per quanto riguarda i grillini non siamo non è d'angelo il popolo la libertà la tua ancora ma è il PD perché oggi se vogliamo andare un elemento di svolta a questa città quella che io mi sembra che qui dentro l'ho ricordato la settimana scorsa quella che in Francia vinteranti chiamò la rivoluzione tranquilla che è una contraddizione nei termini ma che dà la fotografia vuole dare una svolta a un qualcosa di asfitico e anche i grillini devono ritrovare nella sinistra ancoretana che tra l'altro ha fatto una scelta chiara che la sposta ancora più a sinistra ancora con la Francinelli che è chiaro un'emerge di garanzia per dei ciboli di potere ancoretano che sono ben individuati che sono gli stessi e si scoprono questa città non cambiamo non nascogliamoci dietro dietro un diritto insomma sono sempre loro sono di nuovo nella manifestazione dei grillini ci sono alzate le urne e andiamo a casa questo PD l'ho letto su qualche giornale la coerenza la coerenza del PD del Moet 5 Stelle a Lancona parliamo troppo di 5 Stelle non parliamo più di noi però si deve fare una tutta di chiusura la coerenza del Moet 5 Stelle è naturalmente orientata la politica che è andata avanti fino ad oggi è stata spressa al PD e il suo cambiato è confermato c'è lui è confermato c'è lui e da quella parte da quella parte orientata ha fermato decine di atti con noi ha firmato decine di atti con noi così ok dicine di atti Grazie.